Ciao a tutti, sono Ian, è mezzogiorno, sono a casa del mio amico, quello da cui sto, e questa è la mia cucina, insomma, più o meno. Adesso vi porto a vedere quello che farò oggi, vediamo come si fa a cambiare l'inquadratura. Non si può? Ah ok, si può. No, non si può. Non si può. Vabbè sti cazzo, lo faccio vedere così. Allora, io che sono uno stronzo e sono a dieta, dovrò farmi questi fagiolini, gentilmente offerti da mio nonno che c'ha l'orto. Tanta roba ragazzi, tanta roba, altro che le cose che ho compratto sul formicato. Questi si possono mangiare tranquillamente, ma io li cucinerò in padella, olio aglio. Saltate così alla bene meglio, giusto per non metterci troppo quando fanno quella patina piccola piccola bruciatina. Sono stra pronti. Ora, per invece i miei due amici che sono magri come dei chiodi e non hanno bisogno di nessun tipo di dieta. Allora, cosa abbiamo in frigo? Abbiamo del kebab, non so se lo vedete, ecco. Ha preso la mamma del nemico, non lo so. Gli farò sti cosi. Abbiamo dei cappelletti alla carne, dei tremolini, famosissima marca, altro che Giovanni Rana, Product Placement. Allora, potevo farli in brodo, però qui ci sono 38 gradi, sinceramente non è il caso. E poi avrei dovuto fare il brodo, quindi metterlo insieme un po' di sugo e li rifaccio. E sono a posto. E niente, il mio misero pranzo è composto da fagiolini e un pezzo di pane, penso. E penso che mi farò... Oh, lì c'è un'anguria. Penso che mi farò anche un uovo, un ovetto, però poi stasera cinese. Ciao, ragazzi.